Abbiamo la nuova macchinetta, è una meraviglia! Spesso si dimenticano di grattare qua sotto e saltano i clienti dei premi eventuali. Con questo qui viene grattato tutto. Ma cosa mi darà il castorino oggi? Guarda che fortuna! Ben 10 euro questo qui! 10 eurini! Che fortuna! Ne prendiamo un altro, vivere alla grande! Vado di castorino!